e bentornati e benvenuti su goitalia vi prendiamo da dove ci eravamo lasciati andiamo a incontrare ester davenport a casa sua non so se da soli perché cos'è sa un po' di presto il nostro compagno in realtà non lo sappiamo e non lo sappiamo vediamo se c'è qualcosa qua che ci siamo scordati allora qua tutto chiuso tutto chiuso tutto sbarrato c'è una cesta pezzi da otto va bene non si scende ci faccio una serie perché mi piace troppo poi comunque insomma l'ambiente inglese insomma è molto molto bello disidiosa l'agonia venivano messi insomma ladri e altri questi che sono il cimiterio chiuso vabbè Sì, sì, sì. Sì, sì. Cosa vuoi? Quindi la cursa, cosa pensi che sta succedendo? Non c'è nulla. Credo che i ragazzi si scegono e i cittadini hanno scoperto. Credo che i ragazzi si fanno scoperto. E io credo che abbiamo trovato il reverente morto. Vediamoli del governatore, il capitano. Cosa del capitano? Ora c'è un uomo di valore. Con il capitano non c'è nessun town. Questi' ultimanei sono tanti. Ho spero il metto. Se l'urde il mio modo, a chi sta succedendo. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwager. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Ah no, ok. Possiamo questa volta. Quindi tu vuoi andartene? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. Vabbè. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Eh. Andra via da sola? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Non c'è nessuna speranza? There's no hope for New Eden then. Not so the weather changes and it doesn't look like changing. Qual'è il tuo rollo qui? What's your role here if you don't mind me asking? Lately I do what needs doing when no one else will. We can desire by comfort and the curse. In normal times I hunt. Now though it's cold enough to freeze the nankies off an horse and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it. So what would be the use? Farewell. Well then. Thank you for your help. Hi. Ok andiamo... ...in fare la mission. Vi vicino. Dove scendere. Manco se... ...la tentazione di esplodere tutto ci sta eh. Si può vedere qua dietro al pozzo le cose. Spiare da dentro. Insomma... Io credo che al momento il gioco ci fa fare poche cose, anche se c'è un po' di tutto. Anthea! Red! Molto molto pulito. Molto molto pulito. Molto molto pulito. No, non, non ci sono ancora più avveni. Non ci sono che io credo. Non ci sono sempre qui. Non ci si sono, non ci sono ancora di penso. La sua credibilità. Ma cosa succederà? Chiai Charles. Solo un uccidio di cursa di New Eden. Tu sai come era. Era. Sembra. Sembra. Non è che non è che gli dimenticare con te, amici. Ma che non si può aspettare più. Penso che gli cercano di cursa. Io anche ho domande. Ma non ho rispondi. Anche ora ho un figlio. Chiediamogli del governatore Haskell. Che puoi dirmi sul governatore Haskell? Perfax Haskell. Perfax Haskell is well read and educated. Perfax. 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 Come andavano le cose prima? Come andavano le cose prima? Perfax. 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 Charles si è immerso nella comunità. Aveva una mano in tutto. Le persone venivano per rilassare. Sono sicura che si sono andata a qualcuno. Ma non mi ricordo che sia la stessa. C'è qualcosa che dovremmo sapere? C'è qualcosa che dovremmo sapere? Perfax. 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 Ma siamo dove? Non c'è problema. Perfax. Perfax. Grazie Esther. Ok andiamo. Perfax. 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 Bene. Bene. Perfax. 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 Rightkt. Perfax. Allora. Parfax. Perfax. 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 Sicuramente con un'indata privata natural. Che è super importante. Perfax. E quindi, mia cara Esther, non so dirti quanto desideri tornare a casa, questo lavoro nelle mistiche Highlands scozzese è emozionante, su questo non discuto, ma mi manca tanto la dolcezza della nostra dimora, tuttavia so che i pochi mesi che mi rimangono lontano dalle tue amate bracciami fra del bene, questa esperienza contribuirà ad arricchire le mie conoscenze e tutto ciò lo faccio per proteggerti dai mondi oscuri che ci circondano, sono il tuo amore e la tua fiducia che mi spingono in questi coinvolgimenti. E' per te che lo faccio, per poter leggere l'orgoglio nei tuoi occhi, e allora che capisco qual è il mio ruolo su questa terra, e allora che so di poter essere forte, di poter fare qualsiasi cosa, purché mi guardi con quella scintilla che solo i tuoi occhi posseggono, ti penso, tuo per sempre, Charles. Ho un long day ahead of us, I don't want to bother you. Non ho molto, ma prometti mi che sarai venire a dinner tomorrow, per l'ultimo motivo. Of course. Quindi c'è un altro indizio, non vedo l'ora di stringerti fra le mie braccia, l'annuncio del nostro matrimonio è stato per il mio cuore come una dolcissima delicatezza per il mio palato, una di cui non sono mai sazio. E finalmente saremo insieme, per sempre, fino al giorno, fra moltissimi anni, in cui saremo vecchi e la morte ci separerà. Poiché solo la morte potrà estinguere l'amore che ci lega, e nemmeno essa saprà sciogliere la tenerezza che provo per te. Voglio che tutto sia perfetto per il nostro matrimonio, me ne assicurerò, ti scriverò ogni giorno fino a quel momento, ben detto, quando ci libereremo da queste lettere e ti potrò dire di persona giorno dopo giorno ciò che provo per te. Ok, sempre, ti pezzo sempre, tuo promesso Charles, non credo che queste lettere ci aiutino più di tanto, però, ok, speziona, ok, non so dirti quanto desideri di tornare a casa, questo lavoro nelle Mystic Alliance scolzesi è emozionante, su questo non discuto, ma non è la stessa di prima, eh? Beh, essenzialmente è più o meno la stessa cosa, ti dice? Beh, sì, non so legge, ma dice essenzialmente le stesse cose di prima, quindi non lo so. Ma in realtà hanno due, per cui, ok, va bene, infatti, è proprio la stessa. No, non c'è nulla. Ok, forse con un nuovo elemento si sbloccheranno altre linee di dialogo, vediamo un po', spezziamo il piano. No, me lo dico, scolzesi e insol maggiore di Henry Purcell. Lo conosco, ho sentito, ho studiato, ma a scuola, diciamo, più che altro. Eh sì. Mi carissimo Charles, che piacere mi ha fatto leggere le tue parole. Ogni lettera estremamente gradita mi rallegra sapere che tu e la tua amata essere state bene. Contattato i nostri confratelli a Londra, ma purtroppo non riusciamo a trovare nulla nei nostri archivi che corrisponda alla descrizione degli eventi che hai vissuto a New Eden. Tuttavia le pestilenze, gli inverni perenni sono fenomeni forse troppo ampi per noi, affinché possiamo individuare la causa esatta. Non so darti risposte migliori, non so darti risposta migliore. Che si tratti di sergoneria, della presenza di unicore o di qualcosa di completamente diverso, non sapremmo dire tutto ciò che posso fare e invitarti a seguitare la tua ricerca, prendendo nota di tutte le tue osservazioni. La nostra fratellanza nella storia di St. Paul ha una presenza tanto esigua nel Nuovo Mondo che qualsiasi nuova informazione sarà estremamente preziosa. Abbi quella di te, vabbè. Ok, veramente non... Non so... Qualsiasi nuova informazione è un'attività che si tratta. Charles era così attenzionato a continuare la ricerca di New Eden. Se non ci si conosceva ciò che ci si tratta. Ok, spettino con le qualsiasi. Hai ricevuto altri visitatori? La maggioranza non riuscano a lasciare la casa. Ma che il signore ha venuto a vedere la mia, è stato bello di lui. Qualsiasi dice? Ok, niente di che Allora qua c'è una porta Ah ok Ispezione anche qua Hmm Non so se si sono sbloccate le linee di dialogo Che mi sembra che possiamo salire sopra È possibile No C'è un altro piano Lui Ci segui là C'è un altro piano C'è un altro piano Non c'è un'altro piano Non c'è un'altro piano You were Still You did all right Hmm That's from the set he taught me with I'd know it anywhere Did he keep it to remind him of his favorite Or to remind him that he had yet to beat me Remember when he started to wear these To look wiser and older No He was hiding in his ear Ah sì Nessuno da queste parti dell'oceano Pochissime persone dall'altra Sanno che sono giunto a New Eden Come ministro di Dio Per svolgere delle ricerche sul nuovo mondo Per conto della fratellanza Ecco qua Della stola di St. Paul E quali stranezze vi ho trovato Qui ci sono dei fantasmi Ebbene sì Antichi e innumerevoli Ma sono quieti Non posso pronunciare quella parola D'altra voce Ma sospetto che vi siano delle streghe Se ne dovessi trovare una Desidererei molto Chiederle di narrarmi la sua storia Quindi mi sa che Ha fatto qualche casino questo Ok Oh c'è una mappa Vabbè abbastanza Abbastanza buona Per l'epoca Insomma Mi sembra Non credo che dobbiamo fare niente Allora Qua bisogna capire Un attimo capire Che cosa vuole che faccia Perché al momento Ispezionato tutto E non c'è null'altro Che devo Debo fare Quindi o succederà qualcosa Cosa Ah ok C'è un'altra stanza Bene pazienza La stanza da letto infatti Non l'avevamo fatta Non l'avevamo ancora esplorata Ok un attimo Dettagli Ok Ecco Questo mi sa che è importante Ricordo Gli insegnamenti dei miei maestri Posta Dio Per l'ingloria Contro la minaccia dell'ignoto Quando le conoscenze comuni Non bastano A comprendere una situazione L'uomo Pio E sagace Sceglierà saggiamente Di rivolgersi Alla radice stessa Della sua opera Le sue parole Il loro significato Il potere Celato in ciascuna di esse L'etimologia della parola incubo Proveniente dal tardo latino incubus Ovvero spirito maligno Nelle lingue germaniche Derivante Termine Della Della D'Alde A letto L'han detto Eh? What? Ok Del 22 No no Che cacchio so dire Del dodicesimo secolo Mare Ovvero fantasma Demone Non solo un essere demoniaco Che si introduce in camera da letto Per soffocare i sognatori Ma Una delle più rare e potenti creature Definita dal suo unico scopo Di fondo della sua ira Insidiosa E impietosa Su ogni anima Germita Secondo le mie ricerche Nessun ocultista Nessun ocultista Nessun ocultista È mai riuscito a Epurare con successo Un incubo Ma perché? Ma perché È possibile che si tratti di più Di un fantasma Purtroppo temo sia così Ricordo Un poema inquietante Letto in gioventù A Londra Riguardo le terrificanti abilità Di tale entità A quanto pare Capace di penetrare I sogni Delle sue vittime Nightmare Cazzo Eh sì Nightmare Eh sì 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 Freddy Krueger Di influenzare i loro pensieri E le loro percezioni Per renderli capace Di sopportare La più grande paura Capace persino Di alterare Le distanze E il tempo Creando chimere Oniriche Molto personali Da cui è impossibile Fuggire Che impressione Terrificante Prego Dio Con tutto il cuore E l'anima Che non sia proprio questo Che grava Su di noi Come potremmo Altrimenti Fuggire Alla sua disperazione Alla morte E alla perdizione Ho bisogno Di ulteriori Informazioni Ma dove Potrò mai Trovarle Ok Quindi abbiamo Una serie di oggetti Ok Stiamo Per l'ustra Cos'è Sto col Un aspirato d'argento Ok 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 Per ora Rimane lì Non la possiamo Prendere Perché Mi piaceva Vabbè Niente Ok Ispeziona Qui Che dice Qua 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 c'è Una Non so Tre gocce Di olio Di lavanda Un infuso Di camomilla Prima di dormire Ebbè Buono Cima Cimafila Immaculata Da sfregare Sulle mani Dietro le orecchie Tre volte al giorno Se li requiete Persiste Usare il balsamo Di limone Vabbè 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 Ispeziona Ah Questo è un oggetto Ah Lo vedi Questo è importante Casorella Charles è morto Non distingo Più la destra Dalla sinistra Non so più Che il giorno è O da quanto tempo Lui se ne sia andato Il mio mondo È crollato Nulla è andato Come doveva andare Non sono riuscita A presenziare Alla sepoltura Presenziare Alla sepoltura Che vergogna Ho deluso Il mio caro marito Ma non ho trovato La forza Di uscire di casa E recarmi nel luogo In cui lui è morto Per vederlo Lì sepolto Che il signore Abbia pietà di noi E guidi Qui i nostri amici Prima che sia Troppo tardi Eden Non durerà a lungo Senza il mio dorato marito A proteggerla Non mi restano parole Da dirti Ma ho pensato Che tu Che l'amavi Tanto dovessi saperlo Ah lo vedi? L'isatto dell'abitante Quella che per Quello che era un tempo Una allegra e colta amica Di Antea È Red È ora una giovane vedove Prima della sua Priva della sua ancora E arriva in un luogo Senza fine Ok ma qua ci elenca Solo le cose fatte Praticamente Ok Mm-hmm 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 Quindi Di nuovo Facciamo le stesse cose Di prima Eh no Non credo Dobbiamo Rispezionare Cioè Cioè Infatti Quindi Eh usciamo Parliamo con lui Non è molto chiaro Ah Ah dobbiamo andare Adesso Allo studio Quindi Alla luce di quello Che abbiamo scoperto Forse capiremo No Eh lo studio è questo qui Ah ok 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 Quindi In realtà Prima non ce lo faceva Ok Giobbe 7-13-15 Quando dico Il mio letto Mi darà sollievo Il mio giaciglio Alliverà il mio dolore 14 Tu non mi spaventi Con sogni E mi atterrisci Con visioni 15 con l'anima E ho capito Ma che cazzo Lei viene da me Nei miei sogni E ho capito Che Quindi Sì E è accaduto qualcosa Infatti L'ho detto Cos'hanno in comune Tutti questi sogni Preannunziano Il giorno Il giudizio L'arrivo di un incubo Visioni Preveggenza C'è qualcuno Dietro a tutto questo Dove sono le istituzioni Che è il vero obiettivo E cosa ha causato Una cota All'esplosione Di rabbia Devo capire Come entra Nella nostra testa Il sonno Non porta più riposo Non può Continuare così Eh E' Infatti Ok Quindi stiamo facendo Un indizio Alla volta Proprio Indizio Indizio Alla volta Ah Dove Andare al cimitero Vabbè A posto Andare a fare due risate Al cimitero Ma comunque E' molto lineare Non C'è Un momento No Stava di cose Eh vabbè Che c'è E che dobbiamo fare Parliamo con lei Magari glielo diciamo Che non so Mi sa che non glielo diciamo Ah ok Com'è sta With all that's happened How are you bearing up This all feels so unreal Just one more nightmare From which I cannot wake It seems so now But that will change I promise Was there something I should have done differently Did I fail him Did I fail Charles None of this Is your fault Ah, ecco, allora, è colpa tua Eh Stiamo facendo da brutti sogni? Come minimo, penso Eh beh I've had nightmares, I suspect we all have Charles warned that something was stalking our dreams That it had a use for us That we needed to fight it with all God's might But now Charles is gone and my nightmares have changed In my sleep I see my husband falling, screaming into the abyss All hear him, none respond Ebbè Vabbè andiamo al cimitero Facciamoci due risale Ok E raggiungeremo il cimitero Al prossimo episodio Mi sa che verranno tanti episodi Però insomma al momento il gioco Sembra molto interessante C'è questa parte di indagine Insomma che secondo me Tanta roba E di approfondimento della storia E come sempre un saluto Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti